Uccisione confermata Non temerlo, ti copro io Ti copro le spalle Cambio caricatore Ti copro le spalle Ti copro le spalle Ti copro le spalle Ti copro le spalle Riformimento in funzione Ti copro le spalle Ti copro le spalle Ti copro le spalle Sto ricaricando! Sto ricaricando! Buavi nemico in volo! Granata partita! Sto ricaricando! Bombardamento di precisione al riparo! Concisione confermata! Confermo in precisione! Che dove spari? Sparano! Sparano! Lancia una granata! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Granata! Un amico è vicino! Granata muoverci! Granata partita! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Attacco aereo stile in arrivo! Granata partita! Sto ricaricando! È già della missione completata! Conquistate la vittoria! Lancia una granata! Granata! Sì! 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 Il nostro UAV è in sorvolo! Sto riferendo! Sto riferendo! Sizione confermata! Sto riferendo! Granata partita! Mi ho appena salvato il culo! Piastrina presa! Uccisione confermata! Ti copro! Cambio cavolo 4! Battuto! Fermo con uccisione! Sto ricaricando! Sto riferendo! Uccisione sto ricaricando lancio una granata uccisione confermata, nemico a terra arriva l'attacco con mortaio alleato esultivo aereo in arrivo sto ricaricando mi aggrappalo scherata mi evinco a terra ultimo minuto svale sul minuto vado qui l'attacco con mortaio alleato uccisione confermata cambio calcatore l'attacco con mortaio alleato 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 l'attacco con mortaio alleato